Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video, ti parlerò dei prestiti IMSS a pensionati e dipendenti pubblici. I prestiti IMSS per pensionati e dipendenti pubblici sono finanziamenti erogati direttamente dall'IMS o da istituti di credito convenzionati. In particolare, i lavoratori statali devono avere un contratto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione. I prestiti, concessi dietro apposita domanda, possono essere di varie tipologie. L'IMS offre piccoli prestiti a breve termine per soddisfare le esigenze familiari. I prestiti sono rimborsabili tramite rate costanti trattenute su stipendio o pensione. Per ottenere il prestito, è necessario che i dipendenti pubblici abbiano almeno un anno di servizio continuativo con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato non inferiore a tre anni. I prestiti pluriennali IMSS sono erogati per affrontare necessità personali o familiari documentate. La durata può essere quinquennale o decennale. Il prestito small consiste nell'erogazione di somme fino a due mensilità nette dello stipendio. La prestazione è finalizzata a soddisfare esigenze familiari quotidiane, senza necessità di specifica motivazione. Possono richiedere il prestito small, ad esempio, i dipendenti della scuola pubblica e gli insegnanti di scuole parificate che abbiano almeno cinque anni di contribuzione. La richiesta dei prestiti IMSS va presentata online attraverso uno dei sistemi di autenticazione che vedete qui a fianco. A seconda del tipo di prestito, sarà necessaria una specifica documentazione, che sarà indicata dall'INPS al momento della compilazione della richiesta stessa. Questa è la schermata del sito INPS relativa ai prestiti. Il link di accesso alla pagina è in descrizione. Se ti è piaciuto il video e lo hai trovato interessante, clicca mi piace, iscriviti al canale per sostenerlo e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle uscite dei prossimi video.